In considerazione del fatto che l'Ufficio di Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana si è reso da qualche tempo vacante, in solito delle persone dell'importanza delle funzioni dall'Ufficio, nominato all'Ufficio di Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, sui cittadino reverendissima, Monsignor Lucio Belandini. Veccovo di Cassano a Piovio, che rimarrà in carica fino a che non si prospenda diversamente. Città del Vaticano nel Dottor di Genole 2013, Papa Francesco Grazie.